Professor Baisero, oggi 9 maggio, festa dell'Europa, qual è il significato soprattutto di una piazza così importante come Piazza Transalpina? È un significato che richiama una memoria, quella della fondazione delle comunità europee, poi diventate Unione Europea, grazie a Robert Schumann, ministro degli esteri francese, che ebbe questa intuizione 72 anni fa. Ebbene, l'Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia, insieme al Movimento Federalista Europeo, è qui per ricordarlo. Nonostante i problemi relativi al Covid e alle restrizioni e via dicende, abbiamo voluto testimoniare con un gruppo nutrito di persone e anche di studenti universitari questa importante ricorrenza, che non è solo un ricordo ma è uno sprone per agire in futuro, di unificare non solo le due città, Gorizia e Nova Gorizia, ma, se possibile, a partire da qui, l'intera Europa. Nicolás, oggi siamo in Piazza Transalpina, 9 maggio, festa dell'Europa, ha il significato soprattutto per i più giovani? Ma io da studente universitario credo moltissimo in questa città, soprattutto perché questa città è stata scelta, diciamo, in un certo senso per la sua realtà confinaria, per la mia università, che è il corso di Scienze Internazionali Diplomatiche. Io credo che ha questa grandissima potenzialità di portare gli studenti ad una realtà internazionale trasfrontaliera. Noi di MF Gorizia la, diciamo, modelliamo, in un certo senso, decliniamo questa internazionalità su un piano prettamente europeo, una realtà federalista, per l'appunto, europeista e federalista. E noi promuoviamo questa cosa tra i giovani, nella nostra università, siamo un'associazione universitaria, e nelle scuole superiori. Noi andiamo molto orgogliosi di questa cosa e ci piace portare avanti queste iniziative, soprattutto in questo caso assieme ad Accademia Europeista. Ci sono tantissime realtà associative che promuovono la trasformazione di Gorizia e, diciamo, l'internazionalità europea. Grazie a tutti.